Quando uno si impegna così tanto nella vita per portare avanti tutto, sia la famiglia, l'attività, dispiace. Dispiace trovarsi ammalato ma non ammalato. E come capito ti bloccano, ti levano l'entusiasmo, ti mettono gli scordi in famiglia. C'è tante cose e non va bene. È un periodo difficile anche per Maurizio Calderigi, 65 anni, titolare del ristorante La Perla, inaugurato a Fano nel 1991. Un locale che per decenni è stato un simbolo dell'enogastronomia locale, un punto di riferimento per fanesi e turisti. Oggi però il ristorante si presenta così, vuoto e con i posti a sedere ridotti da 180 a 90 per l'enorme anticontagio. Alla mattina ho visto con l'entusiasmo, poi comincio a pensare sopra, ti prende un po' quell'ansia, devi correre a fare i pacchi, devi correre qua lì. Quello non lo puoi fare, stai qui da solo con le mani in mano. Quando tu hai fatto una cosina, mi sono fatta bene, penso. Dopo saranno gli altri che decidono, però la clientela non mi manca perché mi telefonano tutti i giorni. E' deluso e allo stesso tempo commosso l'imprenditore che come i suoi colleghi, dopo tanti anni di lavoro e passione, deve far fronte ogni giorno alle tante difficoltà provocate dalla pandemia. Se questi pensano solo ai cavoli loro, a riempirci i saccocci di DPR, le che fanno riunioni contro riunioni e si mettono i soldi in tasca. E poi arriva, come l'Argentina, che si deve andare con i c***i e noi rimaniamo con due palloni così. Allora qui, noi ti facciamo l'imprenditore e poi il giorno dopo cambiamo tutto. O si sceglie una linea, o non si sceglie. Allora se si deve fare i controlli, si devono fare. Ma non solo a chi gli para loro. Allora invece qui il governo dice una cosa, la regione dice un'altra, il comune ne fa un'altra ancora, ognuno vuole fare il comandante. Servono regole certe e il rispetto delle norme, prosegue Maurizio, ma anche aiuti concreti perché così, ha detto, non si riesce ad andare avanti. Quindi avete subito un calo di fatturato importante. Di che percentuale stiamo parlando all'incirca? Siamo quasi al 90%. Lei fa conto che noi nell'arco dell'anno, l'anno che lavoriamo proprio meno, siamo oltre un miliardo, oltre un milione di euro. Invece adesso siamo a 100, 150, 200 mila euro. Calderigi poi ci tiene a ribadire il fatto che il problema dei contagi non va ricercato all'interno dei ristoranti, ma altrove. Allora io dico, chi è a posto, perché non farlo lavorare? Perché non andare nei centri dove veramente cammina 2.000 persone al giorno, ci sono i carrelli in mezzo ai parcheggi senza sedificante, senza niente, senza guanti, senza niente. Io dico, uno va in questi centri dove si vende l'alimentare, altri centri dove vendono altre cose al di fuori dell'alimentare, non dico i nomi, comunque tanto tutti lo sappiamo, e vado lì e vedo tutta la gente che gira senza guanti. Uno prende una roba, poi la tocca e la mette giù, poi fa il carrello, poi la cassa, la cassa automatica, il guanto non ti va, sono tutti i contatti che vengono. Allora io volevo fare chiamare anche ai cittadini stessi, ai colleghi o a tutti i ganti, che dobbiamo stare attenti a queste cose, perché chi ha gli anziani a casa li ammazzi. Allora io volevo fare chiamare anche ai cittadini. Grazie.